La terza ultima lettura, Beniamino Sidoti, però io mi devo, tu ti siedi qui e magari se vuoi già dire qualcosa su di te eccetera, mi dovete concedere un minuto di pausa tecnica. Di toilette, sono un anziano e quindi sottoposto a certe esigenze, però non allontanatevi perché non è una pausa. Ah quindi è una pausa singolare, non collettiva. Io li controllo, non uscite, tengo qui la lavagna. No, adesso devo prendere tempo perché così aspettiamo. No, intanto grazie mille dell'invito, della possibilità di leggere delle cose. A me piace molto la parola laboratorio, è proprio l'idea di confrontarsi, quindi è una cosa che qui tengo. A differenza di chi mi ha preceduto, io vi leggerò dei racconti. Devo ancora prendere tempo, per cui sto... Io scrivo racconti da tanto tempo, ma la mia scrittura sta un po', corre parallela ad un altro tipo di lavoro che faccio più seriamente, a parte il lavoro editoriale, che è il lavoro sul gioco, per cui io mi occupo di giochi. I testi che vi leggerò sono giocosi, ma non hanno dentro proprio delle cose specifiche sul gioco. Ma quello che a me interessa, credo, anche se intendo i bei lavori di chi mi ha preceduto, è come in questo momento ci si possa interrogare, non sulla forma e funzione, ma su forma e fruizione. Questo per me è qualcosa che è interessante come contributo rispetto al laboratorio e rispetto a quello che scrivo, perché la fruizione significa anche interrogarsi sul testo in quanto luogo da abitare, quindi non soltanto un problema di voce, ma anche una possibilità di star dentro le cose, di lavorare sulla durata e su ciò che si fa, quindi in qualche modo come si può rallentare, come si possono fare varie cose. Io ho preso tempo, sono stati bravi, non ho segnato nessuno la lavagna. Come? Sono stati bravi, non ho segnato nessuno la lavagna. E allora i testi e la narrativa si legge in piedi, mettiamo così. Sì, non c'è un titolo di raccolta perché sono tre cose diverse che vi leggo. La prima che, se non sbaglio, è questo scie. Credo che il tutto sia cominciato col dentifricio, perché quando mi lavo i denti amo usare il dentifricio fino in fondo. La scoperta che il tubetto non è ancora vuoto, che ha qualcosa ancora da darmi, che sono una persona coscienziosa e che sa fare economie, che rispetto la natura perfino, e che il tubetto non è finito. Sorrido e mi lavo i denti. Non so se tutti fanno così. Io ci tengo ed è una piccola felicità che coltivo con gioia. O una piccola gioia che coltivo con felicità. La nuova coinquilina, invece, ha un approccio più diretto al tubetto. Ha molti tubetti, anche. Sa che non deve lasciarli aperti e in giro, soprattutto sul bordo del lavandino, che, come è giusto, è una zona franca. Però io guardo e vedo che spesso vengono abbandonati. Fatti suoi. Però è evidente che siamo diversi. Non mi lamento della nuova coinquilina. Non disturba molto, non porta gente, è pulita. Si veste in maniera sempre molto prevedibile, con sfumature di nero. A me fa piacere sapere che si vestirà più o meno nello stesso modo. A me piace cambiare. Per esempio, ho un vestito del venerdì e uno del lunedì. Una cravatta per la sera. Insomma, vario. Anche nell'alimentazione vario. Ci sono delle cose che mangio solo a cena, altre solo a colazione. Ma a conti fatti credo di avere una buona alimentazione. Già, il dentifricio. Sono un tipo ordinario. Ma oggi non mi è facile fare ordine nei miei pensieri. Come quella cosa lì della gioia e della felicità che si coltiva. Però se devo cominciare dall'inizio, comincio dal dentifricio. Quella mattina, dalla finestra del bagno, si vedevano gli alberi imbiancati da un po' di neve che era caduta durante la notte. Lei, uscendo dal bagno, commentò la cosa. Aspetta. Lei. Lei si chiama Ferro. Di nome, mi spiega. Perché i genitori volevano darle un nome metallico. Non so perché. Ha la faccia più di una debora, ecco. Però, a parte il nome, è una persona non appariscente. Timida anche. Usciamo di casa più o meno alla stessa ora. Ma quando torno è sempre già in casa. Ordinata, pulita, forse l'ho già detto. E degli alberi. Degli alberi, dice, sembrano mandorli in fiore. Mi porta alla finestra a vedere un albero, grande, proprio davanti casa. Poi mi lascia il bagno. Io sono un po' perplesso. Poi capisco che ha usato il mio dentifricio. Non so come dirglielo. Ma non posso non dirglielo. Anche perché non ha rimesso il tappo. A volte dimentica di tappare i barattoli. Quando li trovo sul suo ripiano, li ritappo io. Però ha usato il mio dentifricio. E io sono rimasto nel bagno imbarazzato. Così mi affaccio nel corridoio con il tubetto in mano. Incrociamo i nostri sguardi. E lei capisce. Potremmo cavarcela con una risata. Se fossimo altre persone. Ma non lo siamo. Perché non abbiamo mai coltivato gioia o felicità. Felicità o gioia. O perché amiamo i nostri rispettivi tubetti del dentifricio. O perché il bianco della neve sull'albero, che potrebbe essere un mandorlo in fiore, passa in secondo piano rispetto al bianco della pasta dentifricia. Ci guardiamo. Lei dice qualcosa. Ma non la capisco. La bocca è coperta dalla sciarpa e poi dalla giacca e poi si gira. E poi esce. Io chiudo. Cioè, ho chiuso il tubetto e l'ho rimesso a posto. Poi sono andato a lavorare. Per strada, tornando, ho gettato un occhio agli alberi ancora imbiancati, come mandorli coperti di dentifricio. E ho visto che tutte le luci del nostro appartamento erano accese. Ho salito le scale. Ho aperto la porta e sono entrato in casa. Il corridoio era solcato da una scia bianca. Mi sono chinato e l'ho toccata con un dito. Poi l'ho annusata. Dentifricio. Ho seguito la traccia fino alla mia camera. Via via che avanzava vi si univano altre scie di colori diversi, spremute da tubetti diversi, come un albero costruito al contrario o un fiume verso la foce. Tutti i rivoli, i rami, le scie finivano sul letto. La coperta era ordinatamente piegata e messa da parte e le lenzuola erano agitate da un gorgo di colori o un mulinello o una girandola. Ho posato la borsa e mi sono allentato il nodo alla cravatta. Guardando meglio, il tutto sembrava comporre un disegno, un fiore, qualcosa che cresce o che vive. Solo allora ho notato che in un angolo, accucciata per terra, le ginocchia di fronte agli occhi stava ferro. Respirava piano, non so da quanto. Si è alzata e mi ha guardato. Io mi sono seduto sul bordo del letto. Mi ha preso la mano, chiusa a pugno. Senza dire niente, mi ha aperto le dita e ha portato la mano sul gorgo di colori. Poi l'ha sollevata e se l'è passata sul volto. L'ho guardata senza capire. Poi l'ho vista sorridere. Ci siamo spogliati e rigirati in quel letto, coprendoci di colori e assaggiando la gioia o la felicità. Poi non l'ho più vista. So che qua, lungo questi alberi o nel cielo o nel disordine della città, c'è una sua scia. Il secondo racconto che vi leggo, invece è questo, devo prendere tempo per cambiare tono. Si chiama Breznygram. È un dialogo. Dal che si evince dal fatto che ci sono dei cursivi. Ecco, installa questa. Che cos'è? Un'app. L'ho fatta io. Aspita, non pensavo, ma come l'hai fatta? Magia bianca e magia nera, quella delle mie nonne. E piume di gufo e polvere sotto il tappeto, parole d'amore dette con urgenza e C++. Scusa? Non è importante. Guarda se funziona e se ti piace. Breznygram? Cosa fa? Fa scattare delle foto particolari. Ecco, vedi l'icona del bicchiere, lì in basso? Il bicchiere mezzo vuoto. O mezzo pieno? L'eterna questione. Giusto. Sei buffo. Allora, inquadra qualcosa. L'arco della pace? Sì, mi pare abbastanza grande. E adesso? Sposta il bicchiere a destra, finché non vedi che si riempie. Mi pare pieno. Guarda l'immagine. Ma, 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 è bellissimo. È illuminato. Sembra un monumento a un futuro migliore. Ma come hai fatto? Svuota il bicchiere adesso. Cosa? Striscia il bicchiere verso sinistra, dai, finché non vedi che si svuota. Adesso è tutto grigio. Ma che schifo, è tutto sporco per l'inquinamento. Poi guarda tutti quei morti così trionfale. Hai capito? Ancora no. Vediamo. Lascia così il bicchiere, guarda quella macchina e dimmi cosa vedi zoomando. Graffi, una ammaccatura, gli adesivi sui finestrini, dai. Riempi il bicchiere e riprova. Adesso vedo, l'adesivo è storto, come se fosse stato appoggiato da un bambino per stare dritto quando lui è seduto storto. Hai capito? Cambia il modo in cui guardo le cose? Sì. Ti piace? E che c'entrano le tue nonne? Non so se erano davvero le mie. C'è dentro l'energia di voler sempre vedere il lato buono delle cose e la fatica di vedere la realtà. E le nonne? Erano loro che hanno fatto sì che noi fossimo qui, in un modo o nell'altro. Se lo dici tu. Sì, ma fai foto, dai. Quel signore lì, guarda com'è bello. Stai attenta a fotografare le persone. È meglio se non le conosci. Perché? Che c'entra? È meglio di no. Fai conto che la chiave di Barba Blu, la pendola di Cenerentola, la scorciatoia del lupo. Sei strano oggi. Sì, scusami, avevo fretta di regalarti questo programmino. Un'altra cosa, altrettanto misteriosa? Non fotografarti mai con questa. Si surriscalda. Guarda lì, cos'è? Una civetta. Dai, zooma. Ma dai, è un gufo, un cacciatore notturno. È bellissimo. Svuota il bicchiere. Che schifo, un uccello sempre a caccia, preda dei suoi istinti. Mi ricorda il mio capo. Ecco, lo vedi? Rischi di diventare cinica. Sono le due trame della foto, che salgono e scendono. È lo stesso disegno, visto dai due lati, come in un tappeto. Sopra e sotto. Sei misterioso. E non posso fare le foto a persone che conosco. No. E meno che mai a me. Mai. Perché? Perché? Perché dà dipendenza. Finisce che ci credi. Perché mi guardi così? Ecco. Adesso, come ultima cosa, che è una richiesta esplicita che ho fatto rispetto alle cose che avevo mandato inizialmente, volevo leggervi non tutti questi stati d'animo, ma uno solo, perché sto lavorando su una serie che si chiama appunto stati d'animo. Stati d'animo sono dei luoghi interiori. Nella raccolta mi immagino come una persona che attraversa diverse emozioni, come se fossero paesi reali. Non è un'invenzione totalmente nuova. Quello che mi piace fare è immaginarmela come un gioco da montare. Cioè, come se fossero 50 tessere che si possono comporre componendo una mappa, non la carte de tendre, ma una mappa più ampia di tutte le emozioni, soltanto del fatto con un limite che non si può passare da un'emozione all'altra a casaccio. Ogni paese, ogni stato d'animo, confina soltanto con altri. Per esempio, il paese dell'invidia confina con quello della generosità. Per qualche motivo strano c'è il vicino con l'erba più verde accanto. Però ci sono anche altri passaggi tra stato d'animo e stato d'animo. Sono componibili, per cui sto cercando un modo di raccontarli in maniera tale che sia plausibile passare da uno qualsiasi di questi micro racconti a un altro come se fosse un'unica storia, leggibile in quella maniera, e poi componibile con delle carte. Ancora non so bene come andrò a realizzarla. Ve ne leggo uno solo perché temo non ci sia il tempo di leggerne più di uno, ma casomai poi dopo ditemi se sto sforando materialmente. Questo è il paese dell'invidia. Così attraverso anche il paese dell'invidia, il piccolo paese dell'invidia, dove tutti si conoscono, il paese che tutti ci invidiano a misura d'uomo, tanto a misura d'uomo che te lo cuciono addosso il vestito nel paese dell'invidia. Ti fanno la camicia, ti fanno il cappottino, ti attaccano i bottoni. Quanto si è fortunati ad attraversare il paese dell'invidia. Per carità, ci saranno posti migliori, ma qui non ci lamentiamo, ci accontentiamo di quello che abbiamo. Poi, chi non gli sta bene quello che abbiamo, libero di andare, poi però ritornano. Come verde l'erba del vicino nel paese dell'invidia, sicuramente ha fatto qualcosa il vicino. Così verde da sola l'erba non cresce, anzi chissà se è erba. E mala erba, diceva mia nonna. Ma non per parlare male, ci mancherebbe. Si fa per dire. Che bello, il piccolo paese dell'invidia, che tutti sanno le malattie che hai e che hai avuto come fossero medaglie. E nessuno che lotti contro la malattia o per qualcosa non si lotta nel paese dell'invidia. Si sta tranquilli qui nel paese dell'invidia. È un piccolo paese e tutti ci si vuole bene, l'uno all'altro, qui nel paese dell'invidia. Nessuno lotta. Certo, magari ci si lamenta, si parla, si dicono le cose, che poi le cose si dicono a chi le sa. A chi non le sa, le cose non si dicono, ma non si lotta, si è mai. Eppure il paese dell'invidia, il piccolo paese dell'invidia, dove tutti si conoscono, è irto di torri. È come un animale che un giorno ha rizzato i peli e si è trovato irto di torri e campanili. Ogni torre guarda le altre e tutte si guardano a vicenda. E sono torri che non servono ad abitarci né a difendersi, perché nessuno lotta in questo paese, nel piccolo paese dell'invidia. Sono torri che almeno le altre le vedono, le torri. Che nessuno si chiuda nella torre in questo paese, che sarebbe cosa brutta a vedersi. Che nessuno cali le trecce dalla torre in questo paese, che sarebbe cosa di cui poi si parlerebbe. Ogni movimento che farai io ti guarderò. Le torri servono per parlare. Sono ripetitori, sono minareti da cui cantare, sono posti in cui urlare. Costruire torri serve per fare, per avere una torre più alta, una torre di babele, in cui parlare, dove tutti si parla la stessa lingua. Ci capiamo tra noi in questo paese, che sarà piccolo, ma è il nostro paese. È un paese bellissimo e ci conosciamo tutti. Il paese dell'invidia finisce lì, dove si fa qualcosa insieme. Bene, siamo ritornati nella prosa nettamente prevalente a livello quantitativo in questo incontro e quindi apriamo la discussione. Si doti e arriva con un biglietto di presentazione di Rottino. Non so se Sergio vuoi venire a fare il paradino, che fa anche il rima con Rottino, oppure se preferisci sentire altre voci. C'è qualcuno che vuole intervenire? Canalini è in sala? Non te la senti, passi. Beh, allora magari comincio io, visto che c'è silenzio da parte degli altri. Effettivamente a me è piaciuto il primo testo, quello del dentifricio, e lo trovo abbastanza in media, abbastanza confluente con un certo identichitta. Anzi addirittura mi chiedo se non lo potremmo chiamare nughetta, stile canella. Insomma è a modo suo una nughetta e c'è questa tendenza di guardarsi l'ombelico, di dare la prevalenza alle cose, quando uno degli aspetti che incontriamo in molti testi è questo fare un passo indietro dell'essere umano a vantaggio delle cose, degli oggetti. E qui domina il dentifricio e perfino la relazione tra i due vicini in qualche modo sparisce, fa un passo indietro, diventa periferica e subordinata alle tracce che lassia il dentifricio, che poi trova un eco anche nella nevicata, nevicata sugli alberi, che però viene respinta molto meglio la nevicata artificiale attraverso il dentifricio. E in particolare per esempio Giovenale, prima ha pronunciato un nome che potrebbe essere un ascendente per tutte queste prose oggettuali, cioè tu hai nominato Francis Ponce, che mi pare il nome più spendibile proprio per queste prose oggettuali, minime, perché Ponce, voi sapete, scriveva questi poemetti in prosa, in definitiva, brevi e tutti incentrati su qualche oggetto, dove proprio era tipico il passo indietro fatto dall'essere umano. Ecco, quindi questo primo testo mi sembra centrato in media e anche forse il secondo, insomma, perché anche lì domina un accorgimento tecnologico a cui l'essere umano è subordinato. Ecco, il paese dell'invidia mi sembra invece un po' troppo umano, diciamo, e quindi mi convince meno, insomma, e quindi se dovessi fare una graduatoria, bene il primo racconto, abbastanza bene il secondo, e mi lascia invece molto perplesso, perché mi sembra che si ritorni proprio a una dinamica di sentimenti umani, il paese, quello che mi pare intitolato il paese dell'invidia. Ecco, queste sono le mie impressioni, ma spero che qualche altro si aggiunga per confermare o per dissentire, come è il nostro gioco. Il nostro gioco consiste nel sentire una somma di pareri che possono essere concomitanti o invece dissonanti. Ecco, quindi spero di vedere qualche altra mano alzata. Sì, sì, certo, anzi, vi sto sollecitando, però scusa solo un momento, vorrei, ho fatto il paragone con Canella, c'è una, perché in fondo soprattutto la prima è una nughetta, anche in questo caso potremmo usare questo termine così felice della nughetta che potrebbe essere proprio un vessillo per un tipo di prosa che è comparso in questi giorni, anche nel ricercavo precedente. Solo che c'è una differenza fondamentale nella recita, diciamo, perché Canella, se ricordo bene, si è affidata a un tono assolutamente oggettivo e tu forse invece reciti in modo troppo saporito, troppo accentuato, insomma. Forse a questi testi gioverebbe una maggiore oggettività, insomma una pronuncia un po' più neutra, invece tu assecondavi molto con abilità, quasi di recita, di performance, assecondavi forse un po' troppo il testo, sottolineando i propri caratteri più appetibili in un certo senso. Bene, certo, ricordati di dire il nome per poter essere immortalato. Sì, sì, è lì che devi parlare. Allora, il testo, quello dell'invidia, non mi convince per nulla. Naturalmente se deve essere critica, critica sia. Certo, l'ho detto anch'io. Infatti, non l'ho trovato, siccome sentivo che dietro in me c'era un signore che diceva che era sgrammaticato, io non l'ho trovato sgrammaticato come testo. No, non so, no, non so, no, no. Ma infatti stiamo criticando. Cosa ormai è troppo grammaticato. No, ci stiamo provocando un po', altrimenti cosa stiamo qui a fare? Stiamo qui a farci la punta che cosa? Sì, no, altrimenti che senso ha che stiamo qua? È giustissimo. Altrimenti se è critica c'è, no, altrimenti facciamo. Lo stile è tipico di questo. Sì, allora, non mi ha convinto il secondo testo, mi è sembrato che non avesse peso, ma la cosa che più non mi è piaciuta è che, secondo me, se posso permettere, ma poi ci confrontiamo, mi è sembrato che ci fosse più il bisogno nella lettura di rappresentare il sé con le enfasi, cioè il personaggio lettore e non invece dare dignità al testo, alla scrittura in sé. Però è anche vero che forse è una mia impressione, quindi ho il tempo che trova. Poi, dico un'altra cosa, non ho capito il senso di questa cosa, nel senso che è solo un gioco fino a se stesso, oppure c'è dall'altro, cioè serve a qualcosa o non serve a nulla? Cioè, questo è, insomma, penso che nel 2013, con l'Italia sfasciata, cioè le scritture, io penso a questo, io faccio nella vita, faccio all'avvocato, e quando scrivo sono abituato a scrivere in maniera concreta, cioè la scrittura serve a qualcosa, deve ottenere un risultato. Ora, volevo capire se è un gioco fino a se stesso, quindi, vabbè, per il cielo, serve a te, punto, o se in qualche modo ha un'altra efficacia, vuole avere un'altra efficacia, ecco, questo è. Grazie comunque. Scusami, tutta la scrittura in generale? No, no, questo testo, questo tuo testo, questo testo, sì, sì. Vediamo qualche altra mano alzata. C'era il primo quello, lui ha detto, ci sono, ma non me la sento, la sala, e poi mi ha detto, questa era una piccata la mia frase, si riferiva a se stesso, capito, al suo intervento, era assolutamente non riferito. Ma no, ma io ci devo rinforzare un po' la mia frase. Sì, no, ma non c'è un po' la mia frase. No, ma è perfettamente, quello che hai fatto è perfettamente lecito. E, d'altra parte, siccome poi tu leggerai, e io per primo dirò, anzi, io ritirerò fuori due categorie, e ti ricordi, Niva, che vengono anche in parte da te, che noi giocavamo molto nei primi incontri, e non so perché me le sono dimenticate, a me piacciono molto le categorie bipolari, no? Ti ricordi che abbiamo parlato tanto di due tipi di narrativa. La narrativa dell'appartenenza, dove, cioè, chi scrive o il suo protagonista ci mette la faccia, adesso si dice tanto, metterci la faccia, la narrativa dell'appartenenza è quella dove l'autore, magari attraverso il personaggio, il protagonista, i protagonisti, ci mette la faccia, cioè, in sostanza, dice, de re mea agitur, mi ci metto in prima persona, parlo di cose che mi riguardano, però c'è anche la letteratura della inappartenenza, quindi dove il soggetto fugge da se stesso e si rifugia nella favola, nel mito, nell'allegoria, o negli oggetti, insomma, si nasconde dietro gli oggetti. Ora, questo secondo tipo di scrittura oggi forse è prevalente, e d'altra parte, non dimentichiamo, la letteratura è anche ludica, cioè, non deve essere, se no, sembra che ci sia, ecco, un rimprovero che posso fare a maino, è che la letteratura non deve essere necessariamente impegnata, può essere anche evasiva, ludica, e adesso si tratterà di vedere se Sidoti è sufficientemente evasivo, ludico, ma fargli l'osservazione che è poco impegnata, ma come in un'Italia che sta andando a rotoli, tu ti permetti di giocare col dentifricio, ecco, questo mi sembra un po' moralista, ecco, se gli facciamo un'accusa di questo genere. Se diciamo che il suo balloccarsi col dentifricio non è abbastanza ben tramato, cioè che quindi le sue nughe sono più andanti, diciamo, rispetto alle nughe che ci ha proposto Cannella, questo diventa un motivato giudizio estetico. Però dirgli che è disimpegnato mi sembra che non porti proprio a nulla. Beh, un po' l'hai detto, hai detto, ma come, nel 2000, in un'Italia... Ah, sì, ma vabbè, però in questo momento parliamo di Sidoti... Sì, sì, ma questo siamo d'accordo, perché anch'io mi sono permesso di dare dei voti, no? E ho detto che il primo testo mi è sembrato in linea, appunto, una nuga, per dire una nughetta, quindi dentro a un certo profilo, a una certa identichitta che sta venendo fuori da questo raduno nostro. E le altre cose invece mi sono... la seconda mi sembra che poteva rientrare nella stessa categoria, e la terza invece fuori, perché eravamo dentro un umanesimo più tradizionale. Quindi io concordo col tuo giudizio estetico, però senza sollevare la categoria dell'impegno, d'altra parte tu hai detto che questa riguarda te. E infatti in parte è vero, il tuo testo in qualche modo vedremo che è impegnato, diciamo, in un modo giusto, corretto, eccetera. Va bene? Sergio, sì. Non puoi scagliare il sasso e nascondere la mano. Tanto meno scagli i sassi. Scagli i sassi nel senso che proponi, fai un'opera di proposta. Ok, e infatti dei tre testi, quelli che in qualche modo io ho perorato, sono stati i primi due, cioè Shie e Bresnigram, perché sia in Shie sia in Bresnigram io trovavo, nella loro forse non perfezione, ma trovavo quello che era, uno, una cosa che è interessante, ovvero l'invasione, diciamo, nella realtà delle app, in qualche modo, o di una normalissima casa del fantastico, e di un fantastico che in qualche modo pervertiva, da una parte in Shie un'ossessione e dall'altra parte qualcosa che noi utilizziamo con una tranquillità e una banalità, e la banalità del male, in qualche modo, la app. E trovavo questi due testi, secondo me, interessanti, perché mi spostavano il senso, me lo spostavano in Shie, ribadisco, da un'ossessione, ossessione, a questo punto, se vogliamo prendere l'ossessione dell'onicofagia che abbiamo sentito ieri, e l'ossessione dei tubetti di dentifricio, l'onicofagia è un treno che va dritto, è una freccia rossa, Shie è una deviazione sempre più lenta, da un'ossessione a qualcos'altro. L'elemento che mi piaceva, sia in questo, sia in Bresnigram, è l'idea del sinistro, la cosa sinistra che si avverte dietro, che poi si scioglie in qualcosa di fantastico, totalmente fantastico in Shie, e che invece accentua, quindi appa, quest'idea di fantastico in Bresnigram. Bresnigram ha in più, secondo me, in confronto a Shie, e lì ci colleghiamo con il terzo testo che è stato letto, con Invidia, un'idea di morale. Perché in Bresnigram c'è un'idea di morale, non farti la fotografia, non fotografare le persone che conosci, in realtà stiamo guardando Dorian Gray, in qualche modo, la capacità dello specchio di rimandare un'immagine contemporanea, a seconda di come vogliamo vederla, mezza vuota, mezza piena. Secondo me erano due testi, a mio avviso, interessanti per questo. L'idea finale di Shie, ovvero i tubetti dentifricio, la crema dentifricio, la pasta dentifricio che viene sparsa, fino a creare una specie di fiore, di vortice, era, secondo me, una bellissima idea di chiusura. Molto più bella del fatto, forse, della chiusura in sé. Dopo il po' non l'ho più vista, vabbè, ok, secondo me era già chiusa la cosa. Però, ribadisco, io sentivo questa cosa, mi sembrava che questa fosse la cosa, e mi sembra, tuttora, la cosa che muove questi due testi ha un'intenzione forte da parte dell'autore, ha un piacere anche della lettura, comunque ha una curiosità da parte del lettore. L'ultimo testo, forse, è stato mal scelto, nel senso che invidia, in realtà, è come dire, allarga, e questo sto facendo più che una critica, proprio una questione, molto probabilmente, di scelta, di lettura, ha proprio un'idea di morale, cioè, faccio la morale, quindi, invidia. C'è anche, secondo me, un passo indietro a livello di scrittura, a mio avviso, con tutto che mi sembra perfettamente, ugualmente riuscito, nella sua proposta. Questo è tutto. Io continuo a dire che, secondo me, Schie e, ma anche Breslin, io non trovo che ci siano, oppla, che ci siano discrepanze fra i due. È normale. Schie è proprio un testo, un racconto. Giustamente, Breslin Graham è un racconto in forma dialogica. Quindi, molto probabilmente, nell'intenzione che ha dato Beniamino, nella lettura, ci ha fatto mancare delle cose, perché le ha aggiunte lui. Gli ha dato proprio una valenza di senso molto più forte. Però, secondo me, sono assolutamente due testi di cui, io penso, che io penso, siano la strada che lui debba seguire con maggiore intenzione. Bene, io confermo, Sergio, la mia valutazione è, come la tua, con una preferenza sul primo. Cioè, se uscisse un'antologia ideale da questi nostri incontri, dovremmo farlo. Ecco, sarebbe bello, io ho stimolato Canalini, di, siccome è editore, anche se adesso un po' in sonno, di far venire qui, per esempio, una volta noi eravamo seguiti più dall'editoria, dalla piccola editoria, ai tempi di ricercare, venivano anche i big, a un certo momento siamo stati molto popolari, adesso siamo caduti nella buca, diciamo, però sarebbe bene che, soprattutto, i piccoli editori venissero e ascoltassero i nostri consigli e magari pubblicassero. Quindi, per esempio, Piossi, a me sembra un ottimo testo che metterei in un'antologia. Il secondo, beh, anche quello è in tono e invece entrambi, sia Sergio che io, che peggio l'altro interlocutore, ma, indosì, diamo un voto abbastanza basso al tuo testo, ma del resto tu stesso hai detto che hai provato a inserirlo perché corrisponde a un tuo nuovo tipo di lavoro, insomma, se ho ben capito. Quindi, tenti un'altra chiave, da qui viene un poco, un blocco, diciamo, ma no, insomma, non muoverti in quella direzione, però l'autore decide liberamente. Adesso a te la parola. Anzitutto grazie delle cose che mi avete detto. Giusto due cose. Io, appunto, ho voluto mettere anche la parte di quel frammento perché, visto che è quello su cui sto lavorando adesso, è anche una cosa su cui ho bisogno di avere un dialogo, per cui credo che in questo senso era per me prendere proprio l'occasione di laboratorio e non di concorso, proprio per rispetto, nei confronti della forma che ci siamo dati. Quindi era un affatto di onestà da parte mia, ecco. E giusto due cose, ecco, due sassolini nella scarpa. Sull'interpretazione, no, io ho notato che ci sono molti modi di leggere le proprie cose e io credo nel momento in cui leggo le mie cose non voglio, non vorrei avervi dato l'impressione di cercare di mettere una pezza a qualcosa che non stava sulle sue gambe interpretandolo e rinforzandolo con l'interpretazione. Questo non credo che sia giusto nei confronti dei miei racconti. Ho voluto dare una lettura di un certo tipo proprio perché a me piace che nei testi emerga una voce e quindi in quel caso per me leggere ad alta voce fa parte di un dialogo in interrotto fra me e il testo che scrivo. Non è una punteggiatura aggiunta o una forma di come dire di truffa nei confronti della pagina stampata è che credo che ci sia una continuità di cui assumersi la responsabilità ognuno nel momento in cui si legge perché leggere significa dare anche una lettura scusate in visticcio. A cosa serve? Sono un gioco fino a se stesso. Per me dunque il testo dell'invidia letto così come cosa se stante ho capito e colgo le vostre titubanze le vostre perplessità ne terrò conto. rimane il fatto che secondo me ho questa idea degli stati d'animo componibili della possibilità di passare da un'emozione all'altra per me è un gioco cioè un gioco nel senso pieno perché mi interessa come si possa lavorare su testi componibili è un qualcosa che si è fatto anche in letteratura fino a che non è comparso internet e poi a un certo punto si è lasciato fare a quelli che queste cose le fanno per ragioni commerciali io credo che ci sia ancora molto da capire su come si possano comporre dei testi che seguono dei percorsi di lettura del lettore e mi dispiace che questi esperimenti si siano un po' fermati a cioè voglio dire Cortázar ha fatto delle cose eccezionali ci sono stati fatti anche tanti altri esperimenti Sapportà Max Haub ne hanno fatti tanti di testi componibili a un certo punto mi dispiace che vengano soltanto volgarizzati cioè che alla fine gli ultimi testi componibili che sono usciti sono delle raccolte come quella di Tabucchi che del gioco dell'oca che sono componibili perché si vede che dietro c'è stata una mancanza di trovare un ordine io credo invece che qui ci sia un campo aperto in cui ricercare cioè sul fatto che i percorsi del lettore il modo di far senso di creare senso del lettore è qualcosa di attuale di importante che non può essere lasciato soltanto a una ricerca di tipo commerciale o pubblicitario perché in quei campi si fa molta ricerca e credo al tempo stesso che anche sul modo di mettere dentro la propria voce e anche dire valga più o meno lo stesso ragionamento quello che dicevo prima della lettura cioè che l'interpretazione del testo è sempre stata qualcosa che ha viaggiato insieme ai testi e adesso è qualcosa che proprio soltanto fa sembrare come se fosse riservata ai cabarettisti invece non non credo che sia così è un gioco fine a se stesso quindi sì è un gioco e fine a se stesso non credo nel senso che penso che l'idea dell'attraversare le emozioni è qualcosa che è un po' meno rigido del modo in cui ci viene presentato oggi cioè vedo soprattutto nella letteratura per l'infanzia e nella televisione cioè nella narrativa più di largo consumo che le emozioni vengono presentate come di qualcosa di dirompente che non si attraversa ma come se fossero delle specie di bombe che esplodono è un espediente narrativo che viene usato un po' troppo spesso in questo senso mi piaceva ci dovrò ancora lavorare molto da quanto capisco da quello che mi dite invece l'idea che le emozioni si possano attraversare percorrere che ci siano dei confini o dei modi di ricreare delle proprie mappe quello che ho in mente è probabilmente qualcosa di più simile a un eking e a una composizione continua questo grazie grazie mi chiamo Leonardo Canella no io mentre leggevo mi sono un po' agitato è un buon segno il primo mi è piaciuto le scie il dentifricio queste cose mi è venuta in mente una cosa che mi ha detto Massimo Canarini ieri sera io trovo che la letteratura non mi attiri più tanto è vero però ad esempio nel primo racconto io ho avvertito un richiamo con le arti visive sarà che io frequento anche questo ramo se posso dire di una cosa che a me interessa meno nei testi che sento è che sento che le persone che leggono testi frequentano poco le arti visive che possono essere una specie di enorme invece cavo energetico da cui attingere nel suo nel suo primo nel suo primo lavoro invece mi sono venuti in mente degli artisti della mia generazione dentifricio alberi alberi fatti di dentifricio è uno che frequenta sia il gioco ma sia le arti visive e cioè ha capito che bisogna anche prendere energia da lì e schiacciare l'acceleratore e prendere e mettere dentro i testi e per cui la mia nota è molto positiva per il primo il primo credo veramente che sia un bel lavoro bene se del resto corrisponde Rottino io abbiamo lodato il tuo primo racconto mentre le riserve sono cresciute per non tanto per il secondo ma soprattutto per il terzo però senti adesso casomai dopo e poi recuperare adesso perché siamo in tempo abbiamo ti abbiamo già fatto l'applauso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti